E diamo il benvenuto su nostro canale a Noa. Ciao Noa! Ciao! Allora tu fai parte di questo centro Luce Beauty e Spa, spieghi un po' bene di cosa si tratta per i nostri futuri sposi. Allora si tratta di una realtà che è composta da due centri, uno in via Beaumont che si occupa di estetica avanzata, quindi attraverso i macchinari noi aiutiamo a raggiungere la remisa in forma, quindi vi rimettiamo in forma, chiaramente c'è una consulente che segue tutto il percorso del dimagrimento e vi diamo tutti i consigli del caso. Invece nel centro di via Camerana abbiamo la spa, quindi parliamo di una spa privata con tutti i servizi che può avere, quindi la sauna, il bagno turco, la doccia emozionale, i lettini ad acqua. Ma vengo anch'io subito! Subito! La piscina idromassaggio, la zona relax, si può noleggiare in via privata, per cui è una coccola sia per la coppia, si possono organizzare feste, per cui anche l'anniversario, la festa di compleanno e soprattutto addio nubilato e celibato. Quindi coccolate gli sposi prima e dopo il matrimonio. E dopo, e dopo, e dopo, e dopo. Diamo un respiro, diciamo, una ventata di leggerezza e di serenità sia prima che dopo il matrimonio. Quale consiglio possiamo dare agli sposi allora alla fine? Allora, un consiglio che possiamo dare agli sposi è innanzitutto di godersi il loro giorno e chiaramente di sceglierci perché da una parte possiamo dire addio allo stress, sia per la donna che per l'uomo, prematrimoniale, per cui la remisa in forma ci occupiamo noi, la consulente vi segue dall'inizio alla fine, mentre invece per quanto riguarda la spa vi concedete un momento di relax, sia pre-nozze, quindi vi rilassate prima, sia durante che anche dopo, quindi anche in viaggio di nozze, in luna di miele, c'è un momento di leggerezza. E diciamo anche che dopo il matrimonio è sempre una buona occasione anche? Assolutamente, assolutamente, dopo un litigio, insomma, sicuramente noi sappiamo consigliarvi, chiaramente abbiamo consulenti in tutti e due i centri, per cui le vostre esigenze vengono ascoltate e messe al primo posto. Il nostro obiettivo è benessere a 360. Va bene Noa, io ti ringrazio per aver partecipato al nostro canale e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Grazie a voi, ciao! Grazie a tutti!